Ciao a tutti ragazzi, oggi sono in compagnia di mia sorella e faremo un'avventura di una notte sopra il monte Ventasso E adesso andiamo a prendere i panini per stasera Adesso guido io No è cazzo E ora papà Panini, birra, erbazzone, presi In direzione Ventasso, spero che non riesco a fare il cambio di scena Siamo arrivati da un minuto e già il nostro cane ha fatto la cacca Bravo Bruno, continuo Armati di calzini con le api Andiamo Siamo anche nella compagnia con Mmens No Anna Brava Anna lì ce ne sono altri due, raccogli Oh, mamma mia Anna, mamma mia cosore Anna Un altro Incredibili, incredibili Per esempio lì c'è un altro Anna Ma davvero No vabbè Titolo del video Andar a raccogliere sacchetti di cacca in giro per Ventasso È bellissimo Creiamo una challenge adesso Hashtag Raccogli una cacca in giro Oh, oddio Oddio No vabbè No vabbè No vabbè No vabbè Grazie a tutti. No, Davide! No, ragazzi, finalmente è la prima tappa Refugio Maddalena. Tu lo sai che dobbiamo arrivare su là, eh? Ma va. No. Eh sì. Adesso, veniamo lassù, arriviamo sulla punta del Monte Ventasso, torniamo giù e mettiamo la tenda qua. Oh, aia! Oh, aia! Oh, aia! Oh, aia! Anna, guarda che meraviglia! E' tutto così, magnifico, è uscito anche il sole! Eh? Voglio morire! Guarda che bello! Come fai a non essere felice? Eh? Anna! 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 Sì? Ma faccio quella fo... Quella folla che ho di camminare! Sei arrivata! Vai a toccare la Croce! Vai! Dopo metti la musica. Si, eroica. Di quando sono atterrati sulla luna. Ah si. Una cazzata! Ciao mamma! Apertivo con birra erbazzone. Non potete capire la godura. Fatta! Ora stai meglio? Si! Eccoli gli scout di... Livorno! Livorno! Vado ciao! Ciao! Sì, abbiamo raccolto la legna. Eccolo qua! I panini. A scaldare. Io mi sono fatto un paninozzo con ciccioli. Cacciotta. No! Dov'è che non facciamo il paninozzo? No! Magari dà la fastidio a qualcuno ma... Noiii... Ci prepariamo per fare la nanna. Perfetto ragazzi. E qua siamo tutti pronti. Bruno ha già letto da un bel po'. Lanna. Buonanotte. Eccoli qua! Buongiorno! Ci sono tipo... 7 gradi. E sono le 5 di mattina. Quando mi ricca... Eccoli da boy scout. Pensavo... Fosse di dal sole. Per quanto pare sbagliavo. Che meraviglia ragazzi! Adesso ci tocca fare su tutto e... Tornare giù. Oh! Già fatto? Ottimo! Ora abbiamo anche la colazione pronta. Guarda dove ti porta a fare colazione Anna. E dopo questa ricca colazione... Torniamo giù. Ci vediamo dopo la colazione. verso qua. Verso qua. Ah! Ma è piacciata! Ragazzi contro ogni pronostico... Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati E ora La cosa più importante da fare La prima cosa che faremo Colazione Finalmente E noi abbiamo finito la nostra avventura qua Lo dici tu Anna? Bene ragazzi il video è finito Ci rivediamo al prossimo video Mi raccomando rimanete aggiornati Seguite e mettete la notifica Se volete vedere i prossimi video Grazie a tutti